La libertà è più forte, più di autorità! La loro azione è la libertà, è più forte, più di autorità! Libero, Giziano, libero! Libero, Giziano, libero! Tutte liberi! Tutte liberi! Noi vinciamo, sei tutti noi! Vinciamo! Fii, fri, palestai! Fii, fri, palestai! Fii, fri, palestai! Sono molto contento che ci sono loro, che c'è la mia amica, il mio amico qui, tutta la famiglia e niente. Sei contento almeno della solidarietà? Sì, assolutamente. Stavo ringraziando proprio tutti quanti per la vicinanza, ecco. Tutti liberi! Tutti liberi! Tutti liberi! E' uscito adesso, quindi lo vedo adesso, quindi sono contento che... Facci una domanda sul perché? Perché questo processo è che lo faccio. Vabbè, però se la pagano... Giustamente è stato un po' di anni, non ce la pagano? E' un tanto da dichiarare. Al momento gli hanno dato gli arresti domiciliari, abbiamo chiesto i termini a difesa e il processo inizierà il 14 novembre. Ma non hanno trovato niente nelle immagini? Lo vedremo, che immagine... Io non ho trovato nulla, insomma, quindi diciamo, sulla base delle dichiarazioni del dirigente, che dice di aver visto quello che... Noi non lo abbiamo visto, però vedremo il processo. Speravo in qualcosa di meglio, ma per il momento ci accontentiamo, per 40 giorni si può fare.